Tredicesima edizione per il Festival Il Pianeta della Maldicenza, organizzato da vari congreghi agnesine dell'Aquila, con il coordinamento della confraternita Devoti di Sant'Agnese. L'iniziativa che gode del padrocino del Comune intende rinnovare una tradizione tipica dell'aquilanità. Il programma è stato illustrato dal Presidente dei Devoti, Angelo De Nicola, e dai rappresentanti delle confraternite protagoniste dei vari appuntamenti. Tra le novità principali, la riproposizione dello Zibaldone Aquilano in programma il 6 gennaio all'Editorium del Parco, per omaggiare il suo autore, Mario Lolli, a cent'anni dalla nascita. Ci sarà anche l'omaggio a Ludovico Nardecchia, primo grande promotore del pianeta Maldicenza ed ex amministratore comunale, scomparso a marzo, il 21 gennaio, al ridotto del teatro. L'Agnesino d'Oro 2018, intitolato a Ludovico Nardecchia, sarà segnato al termine del concorso d'arte varia, che si terrà nel pomeriggio del 20 gennaio all'Editorium del Parco. Novità, la tre giorni cinema e Maldicenza, curata da Gabriele Lucci, una rassegna tra realtà e finzione. Dicesima edizione del pianeta Maldicenza con tutta una serie di novità, tre in particolare sono le novità. Lo Zibaldone Aquilano, un testo di Mario Lolli nel centenario della nascita, interpretato da attori non professionisti. Credo che ci sarà particolarmente da ridere e da sorridere con questo mitico testo del nostro mitico Mario Lolli. Poi ci saranno tre giorni dedicate al cinema e alla maldicenza curate da Gabriele Lucci. Per tre giorni all'Auditorium del Lance si proietteranno tre pellicole e si discuterà di queste pellicole, del significato che queste pellicole hanno, questi tre grandi film. E poi ci sarà un omaggio a Ludovico Nardecchia, scomparso lo scorso anno, il nostro fondatore. Questo avverrà significativamente il 21 nel giorno di Sant'Agnese con un concerto della Corale Gran Sasso presso il ridotto del teatro comunale. Ci saranno anche eventi sul dialetto nelle scuole. Sabato 20, come dicevamo, all'Auditorium del Parco alle 16, il concorso d'arte critica alle 18. Fuori l'Auditorium invece la consegna del Paglio di Sant'Agnese alla confraternita vincitrice, premiazione del vincitore dell'Agnesino intitolato a Nardecchia dalle mani del sindaco dell'Aquila Biondi. Ci sarà anche la consegna del premio Sezione Giovani intitolato a Luciana Cucchiella all'istituto scolastico vincitore. La municipalità offrirà a tutti brindisi caldo preparato dall'ANA Gruppo Alpini Jacobocci dell'Aquila e dolce e salati di Sant'Agnese.